Musica Allora, questa cassa è mia, chi la prende è un bambino di me No, ok, ciao Non c'è ripensato, scusate, non faccio più Però fa gente che vuole Che su una cassa Fa due anni, avete Allora, bella casa Martina, c'è dove una bella casa Sì, 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 sembra di un locale di Trapani C'è un c***o Sì, sì, scelgo di dopo 40 anni Sì, magari il prossimo lo metto Ragazzi Ragazzi, c'è il boss qua Via tutti quanti, grazie Molto gentile No, non so che ce ne sta un altro Sta nel negozio della carpa Voglio un no scope, grazie No, non voglio rischiare, ti vuol dire avere un no scope Prima l'ho fatto Io bra A fare figli, figli, bum bum A domani, secondo me, un bel piacere Sì, sì, pinanti Sì, 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 sì Ok Sono confuso, scusate A domani, bella mia Eh, però dai ragazzi Non mi possono mettere l'RPG viola davanti Prendimi Dai, come ieri When I see you again Mi diciamo 11 razzi No, l'RPG non si lascia No, 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 no Non esiste proprio Sì, 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 sì Ti push off a tent No C'è la luce che no Che puipo Vabbè Vabbè Io vado a mangiare Poi se qualcuno vuole giocare Non lo so Ah, già è vero Poi ho detto Che l'ho mezza Ok Quindi ci vediamo Buon pranzo Buon pranzo Eh, giusto, se ne è già andato Ma ragazzi Ma era XUDER Ma era XUDER No Era XUDER Ma sei sicura? Sì Era lui Si chiama così? Vabbè Ora ce lo ritroveremo in chat 100-100 Ma è Ma è Ma è Sì ma ho letto ragazzi Non me l'aspettavo di incontrarlo Non ci avevamo mai beccati Ma dovrebbe essere No 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 Ma what? A domani A domani Allora Ok Mia donna ragazzi guardate i miei materiali Oddio che schifo Quanto farmero i player Aiuto Ttv youtube Sì Un'altra cosa te la vuoi iscrivera Ttv tv Ttv tv Sono confuso scusato Ttv youtube RMX BTW si chiamava RMX cos'era? Biciclette Quelle sono le BMX Bob Lo so però vabbè Sembrava simile RMX BMX Sì 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 Tanto sono triggerato dal fatto che c'ho 150 di vita E non ho modo di fullarmi Questa cosa mi sta alterando Perché se poco poco becco una trappola Tilto All righty then Quanto bello è il freddo mamma mia C'è un player A domani sono un bel piacere Averti qua con noi 1v1 ragazzi Falcettino lo sapevo Lo sapevo Ecco perché mi sono boxato ragazzi Immaginavo Ok devo fare solo quella safe Devi stare calmo Devi stare Ok mi deve darmi uno shield Sì 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 Sì